È davvero qualcosa di bello che il Melanoma Day è diventato un evento nazionale. Martedì lo abbiamo presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati su iniziativa dell'On. Ciocchetti e lì c'erano le associazioni pazienti, i rappresentanti delle istituzioni, le società scientifiche e proprio lì abbiamo lanciato un messaggio di prevenzione enorme. Il Melanoma Day sarà il più grande evento di prevenzione del melanoma in Italia e sabato 11 maggio si terranno tantissime attività in molte città italiane. Noi con la nostra associazione, che è nata sul territorio della provincia di Frosinone, io l'ho fondata dopo aver perso mio papà di melanoma, organizzeremo un evento molto importante a Sora. Infatti al mattino faremo un congresso importantissimo rivolto ai medici di famiglia sulla gestione delle lesioni cutanee sospette e il pomeriggio doneremo alla popolazione ben 400 screening dermatologici completamente gratuiti. Le prenotazioni sono andate sold out veramente in un attimo. Noi siamo a disposizione del territorio e vogliamo fare sempre di più per la prevenzione di questa malattia molto importante, ma per la quale possiamo davvero fare molto. Grazie a tutti.